Piero Braia si è presentato questa mattina, stampa e tifosi, in una videoconferenza nella quale ha tracciato la linea che il suo Avellino dovrà seguire sul mercato ed in campo. Sarà un Avellino di giovani ma che hanno già la giusta esperienza in questa categoria. Dovrà essere una squadra ambiziosa che dovrà far divertire il suo pubblico. Il neotecnico Biancoverdi ha da subito sottolineato il feeling che si è estaurato con il presidente D'Agostino. Queste le sue prime parole. Mi è piaciuto il presidente per come si è posto, oltre che il fatto che conosco di Somma e so che ci posso lavorare bene insieme perché abbiamo fatto delle cose belle anche da un'altra parte. Però mi ha convinto il presidente per come è, per la sua semplicità, mi sono piaciuti i suoi modi. Poi al di là del fatto del programma, che chiaramente è sempre una componente molto importante per la piazza, però mi è piaciuto lui per come si pone. Io, prima di tutto, sì, sono abituato alle piazze difficili. Avellino sicuramente lo è, lo è per 3.000 motivi che sto cercando di capire nel minor tempo possibile. Però come tutte le piazze, poi quello che conta è il campo, è come ti poni. Perciò io da questo punto di vista sono tranquillo. Per quanto riguarda il programma societario, il programma societario ci vogliamo migliorare, anche perché teniamo presente che l'anno scorso Lavellino è arrivato a 29 punti al momento dell'interruzione del campionato alla prima classifica, che poi era la regina. Perciò ce ne abbiamo di strada da fare e dobbiamo farlo velocemente. Poi, se si può vincere, se si parte, se si arriva fra le prime 3 e 5, questo è un discorso che ce lo dirà il campo. Qui nessuno ha la bacchetta magica, qui dipendiamo molto, dato che la squadra sarà totalmente rinnovata, a parte penso uno, due, tre elementi. Perciò dobbiamo essere bravi nello scegliere gli uomini e soprattutto dei cacciatori che vengano qua per mettersi in discussione. No, gente con la pancia piena, ma soprattutto gente che voglia veramente fare qualcosa di importante. Lo staff De Simone farà il secondo, Natalino il preparatore atletico e Pagotto il preparatore portiere.